Il comitato esecutivo della Commissione regionale dei Lucani nel mondo che ha aperto i lavori della tre giorni dedicata ai Lucani nel mondo ha espresso parere favorevole all'unanimità sulla proposta del programma annuale 2022 e triennale 2022-2024 che passa ora all'attenzione della Commissione regionale dei Lucani nel mondo. Riuniti a Vigiano i componenti dell'organismo presenti il presidente del Consiglio regionale della Basilicata e della CRLM Cicala, il consigliere segretario dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e vicepresidente della CRLM Leggieri, i rappresentanti del Sud America Melillo Magione, del Nord America Caivano, dell'Europa Frigione, dell'Italia Sabia, si sono confrontati su diverse tematiche. Tra gli argomenti oggetto di confronto, il turismo di ritorno per far avvicinare i giovani alla terra di origine, gli scambi culturali, la rigenerazione dei borghi lucani e possibili agevolazioni da parte dei comuni a favore dei Lucani all'estero. Sollecitate da parte dei rappresentanti dei Lucani nel mondo maggiori risorse per il prosieguo delle attività delle associazioni, che spesso si trovano a dover rimpinguare le casse con fondi propri e un monitoraggio delle attività messe in piedi da tutte le associazioni per evitare duplicazioni. I lavori proseguiranno oggi da Grumento e domani da Vigiano.